Ciao studenti e bentornati. Sono Manu, il tuo insegnante di italiano online. Oggi con un altro esercizio di ascolto. Sì, evviva! Quindi un'altra opportunità per lavorare al tuo italiano e migliorarlo con un testo scritto in italiano, parlato da un italiano in italiano, a una velocità un po' più comprensibile. Questo testo è preso dalla mia newsletter di Italy Made Easy Stories che trovate nella descrizione e nel PDF trovate anche la trascrizione e la traduzione. Ma ora facciamo l'esercizio di ascolto. Come la settimana scorsa metto l'audio tre volte, quindi puoi fare l'ascolto tre volte di seguito. Prima ascolto passivo, poi un ascolto più attivo e per finire puoi provare a fare un po' di shadowing con il testo davanti. Come sai è la mia missione di aiutarti a imparare e migliorare l'italiano e come sempre sia qui su YouTube che sulla mia accademia trovi tantissime risorse gratuite come i quiz di grammatica, esercizi di comprensione come questo, trovi il podcast. Insomma ti consiglio caldamente di andare su Italy Made Easy e cercare la mia accademia e trovare tutti i corsi gratuiti e i corsi strutturati anche per imparare l'italiano. Ma ora ti lascio a questo esercizio e ci vediamo dopo. Ho anche il naso bruciato dalla spiaggia. Viaggi nel tempo a bordo di un treno In un mondo abituato ai treni ad alta velocità, che ci permettono di raggiungere rapidamente e senza perdere tempo qualsiasi posto, i treni storici sono un toccasana per l'anima. Viaggiare significa osservare i luoghi che attraversiamo, non solo raggiungere il posto verso il quale siamo diretti. Quando viaggiamo per lavoro, scegliamo i mezzi più veloci perché spesso il tempo è poco e non importa se non vediamo nulla durante il tragitto. Ma quando invece viaggiamo per piacere, anche il modo in cui compiamo il viaggio stesso ha la sua importanza. In Italia i treni storici permettono di fare un viaggio diverso. Si tratta di treni vecchi o antichi che percorrono ferrovie che non vengono più usate per i percorsi dei treni moderni. Proprio per questo motivo, viaggiando con i treni storici, potete ammirare i luoghi più incontaminati e i paesaggi più suggestivi. Naturalmente le vecchie ferrovie sono caratterizzate dalla lentezza, ma offrono splendidi panorami ed emozioni che solo i treni storici possono regalarvi. All'interno delle ferrovie dello Stato italiane, Trenitalia, che gestiscono gran parte dei treni italiani moderni, esiste una fondazione che ha il nobile obiettivo di valorizzare e preservare per le generazioni future un patrimonio di storia e di tecnica, quello dei treni appunto. La fondazione possiede 357 treni d'epoca, di cui 302 sono operativi. Salendo a bordo di questi treni avrete la possibilità di fare esperienze davvero entusiasmanti. Potrete viaggiare nel tempo utilizzando i treni dell'epoca dei nostri nonni o bisnonni e potrete vedere panorami impossibili da ammirare in qualsiasi altro modo. La seconda domenica di ogni mese, per esempio, parte dalla stazione di Napoli centrale il Reggia Express, che vi porterà alla Reggia di Caserta, la residenza reale più grande del mondo, tanto che viene anche chiamata la Versailles italiana. A bordo di un treno degli inizi del XX secolo potrete godervi il paesaggio di cui il re di Napoli si innamorò due secoli fa e poi visitare la Reggia ed il suo parco. Si tratta di un viaggio breve perché dura soltanto un'ora, ma che vi farà provare emozioni indimenticabili. Se invece preferite paesaggi che tolgono il fiato, potete scegliere il treno Natura che percorre la Ferrovia della Val d'Orcia. Questa splendida ferrovia attraversa una delle zone più belle della Toscana e di tutta Italia, compreso il Parco Artistico Naturale e Culturale, riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Il treno Natura è un treno a vapore. Tra sbuffi e fischi, viaggiando su questo gigante nero, verrete trasportati in un'atmosfera d'altri tempi. Questo treno che attraversa la campagna senese però non è l'unico a vapore. Il primo in assoluto ad essere stato usato per scopi turistici è quello che percorre la linea da Novara a Varallo-Sesia in Piemonte. La sua locomotiva a vapore, chiamata Signorina, vi trainerà in un vero viaggio indietro nel tempo. Seguirete un percorso nato 130 anni fa attraverso quella che viene considerata la valle più verde d'Italia. E, giunti a Varallo, avrete anche la possibilità di salire sul Sacro Monte, uno dei maggiori centri di culto cattolico del Piemonte ed anch'esso patrimonio dell'UNESCO, utilizzando la funivia più rapida d'Europa. Infine, se il periodo della vostra vacanza in Italia è quello invernale, potrete scegliere la Transiberiana d'Italia. È un treno d'epoca che parte da Sulmona, famosa anche per i suoi deliziosi confetti, e che vi condurrà per tutto il mese di dicembre, attraverso un paesaggio fiabesco ed innevato, a visitare i mercatini di Natale. Ogni tanto possiamo rallentare i ritmi della vita quotidiana che ci fa correre senza sosta su e giù. Il tempo scorre veloce, ma a bordo di questi treni compirete viaggi che vi faranno affermare che, talvolta, il tempo torna indietro. Viaggi nel tempo a bordo di un treno In un mondo abituato ai treni ad alta velocità che ci permettono di raggiungere rapidamente e senza perdere tempo qualsiasi posto, i treni storici sono un tocca sana per l'anima. Viaggiare significa osservare i luoghi che attraversiamo, non solo raggiungere il posto verso il quale siamo diretti. Quando viaggiamo per lavoro scegliamo i mezzi più veloci, perché spesso il tempo è poco e non importa se non vediamo nulla durante il tragitto. Ma quando invece viaggiamo per piacere, anche il modo in cui compiamo il viaggio stesso ha la sua importanza. In Italia i treni storici permettono di fare un viaggio diverso. Si tratta di treni vecchi o antichi che percorrono ferrovie che non vengono più usate per i percorsi dei treni moderni. Proprio per questo motivo, viaggiando con i treni storici, potete ammirare i luoghi più incontaminati e i paesaggi più suggestivi. Naturalmente le vecchie ferrovie sono caratterizzate dalla lentezza, ma offrono splendidi panorami ed emozioni che solo i treni storici possono regalarvi. All'interno delle ferrovie dello Stato italiane, Trenitalia, che gestiscono gran parte dei treni italiani moderni, esiste una fondazione che ha il nobile obiettivo di valorizzare e preservare per le generazioni future un patrimonio di storia e di tecnica, quello dei treni appunto. La fondazione possiede 357 treni d'epoca, di cui 302 sono operativi. Salendo a bordo di questi treni avrete la possibilità di fare esperienze davvero entusiasmanti. Potrete viaggiare nel tempo utilizzando i treni dell'epoca dei nostri nonni o bisnonni e potrete vedere panorami impossibili da ammirare in qualsiasi altro modo. La seconda domenica di ogni mese, per esempio, parte dalla stazione di Napoli centrale il Reggia Express, che vi porterà alla Reggia di Caserta, la residenza reale più grande del mondo, tanto che viene anche chiamata la Versailles italiana. A bordo di un treno degli inizi del XX secolo potrete godervi il paesaggio di cui il re di Napoli si innamorò due secoli fa e poi visitare la Reggia ed il suo parco. Si tratta di un viaggio breve perché dura soltanto un'ora, ma che vi farà provare emozioni indimenticabili. Se invece preferite paesaggi che tolgono il fiato, potete scegliere il treno Natura che percorre la Ferrovia della Val d'Orcia. Questa splendida ferrovia attraversa una delle zone più belle della Toscana e di tutta Italia, compreso il Parco Artistico Naturale e Culturale, riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Il treno Natura è un treno a vapore. Tra sbuffi e fischi, viaggiando su questo gigante nero, verrete trasportati in un'atmosfera d'altri tempi. Questo treno che attraversa la campagna senese però non è l'unico a vapore. Il primo in assoluto ad essere stato usato per scopi turistici è quello che percorre la linea da Novara a Varallo-Sesia in Piemonte. La sua locomotiva a vapore, chiamata Signorina, vi trainerà in un vero viaggio indietro nel tempo. Seguirete un percorso nato 130 anni fa attraverso quella che viene considerata la valle più verde d'Italia. E, giunti a Varallo, avrete anche la possibilità di salire sul Sacro Monte, uno dei maggiori centri di culto cattolico del Piemonte ed anch'esso patrimonio dell'UNESCO, utilizzando la funivia più rapida d'Europa. Infine, se il periodo della vostra vacanza in Italia è quello invernale, potrete scegliere la Transiberiana d'Italia. È un treno d'epoca che parte da Sulmona, famosa anche per i suoi deliziosi confetti, e che vi condurrà per tutto il mese di dicembre attraverso un paesaggio fiabesco ed innevato a visitare i mercatini di Natale. Ogni tanto possiamo rallentare i ritmi della vita quotidiana che ci fa correre senza sosta su e giù. Il tempo scorre veloce, ma a bordo di questi treni compirete viaggi che vi faranno affermare che, talvolta, il tempo torna indietro. Viaggi nel tempo a bordo di un treno In un mondo abituato ai treni ad alta velocità, che ci permettono di raggiungere rapidamente e senza perdere tempo qualsiasi posto, i treni storici sono un toccasana per l'anima. Viaggiare significa osservare i luoghi che attraversiamo, non solo raggiungere il posto verso il quale siamo diretti. Quando viaggiamo per lavoro scegliamo i mezzi più veloci, perché spesso il tempo è poco e non importa se non vediamo nulla durante il tragitto. Ma quando invece viaggiamo per piacere, anche il modo in cui compiamo il viaggio stesso ha la sua importanza. In Italia i treni storici permettono di fare un viaggio diverso. Si tratta di treni vecchi o antichi che percorrono ferrovie che non vengono più usate per i percorsi dei treni moderni. Proprio per questo motivo, viaggiando con i treni storici, potete ammirare i luoghi più incontaminati e i paesaggi più suggestivi. Naturalmente le vecchie ferrovie sono caratterizzate dalla lentezza, ma offrono splendidi panorami ed emozioni che solo i treni storici possono regalarvi. All'interno delle ferrovie dello Stato italiane, Trenitalia, che gestiscono gran parte dei treni italiani moderni, esiste una fondazione che ha il nobile obiettivo di valorizzare e preservare per le generazioni future un patrimonio di storia e di tecnica, quello dei treni appunto. La fondazione possiede 357 treni d'epoca, di cui 302 sono operativi. Salendo a bordo di questi treni avrete la possibilità di fare esperienze davvero entusiasmanti. Potrete viaggiare nel tempo utilizzando i treni dell'epoca dei nostri nonni o bisnonni e potrete vedere panorami impossibili da ammirare in qualsiasi altro modo. La seconda domenica di ogni mese, per esempio, parte dalla stazione di Napoli centrale il Reggia Express, che vi porterà alla Reggia di Caserta, la residenza reale più grande del mondo, tanto che viene anche chiamata la Versailles italiana. A bordo di un treno degli inizi del XX secolo potrete godervi il paesaggio di cui il re di Napoli si innamorò due secoli fa, e poi visitare la Reggia ed il suo parco. Si tratta di un viaggio breve perché dura soltanto un'ora, ma che vi farà provare emozioni indimenticabili. Se invece preferite paesaggi che tolgono il fiato, potete scegliere il treno Natura che percorre la Ferrovia della Val d'Orcia. Questa splendida ferrovia attraversa una delle zone più belle della Toscana e di tutta Italia, compreso il parco artistico naturale e culturale, riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Il treno Natura è un treno a vapore. Tra sbuffi e fischi, viaggiando su questo gigante nero, verrete trasportati in un'atmosfera da altri tempi. Questo treno che attraversa la campagna senese però non è l'unico a vapore. Il primo in assoluto ad essere stato usato per scopi turistici è quello che percorre la linea da Novara a Varallo-Sesia, in Piemonte. La sua locomotiva a vapore, chiamata Signorina, vi trainerà in un vero viaggio indietro nel tempo. Seguirete un percorso nato 130 anni fa attraverso quella che viene considerata la valle più verde d'Italia. E, giunti a Varallo, avrete anche la possibilità di salire sul Sacro Monte, uno dei maggiori centri di culto cattolico del Piemonte ed anch'esso patrimonio dell'UNESCO, utilizzando la funivia più rapida d'Europa. Infine, se il periodo della vostra vacanza in Italia è quello invernale, potrete scegliere la Transiberiana d'Italia. È un treno d'epoca che parte da Sulmona, famosa anche per i suoi deliziosi confetti, e che vi condurrà per tutto il mese di dicembre attraverso un paesaggio fiabesco ed innevato a visitare i mercatini di Natale. Ogni tanto possiamo rallentare i ritmi della vita quotidiana che ci fa correre senza sosta su e giù. Il tempo scorre veloce, ma a bordo di questi treni compirete viaggi che vi faranno affermare che talvolta il tempo torna indietro. Allora, com'è andato un esercizio di comprensione con i fiocchi? Noi ci vediamo presto in un altro video e molto spesso nelle mie lezioni dal vivo, live, dove puoi interagire con me, farmi le tue domande e ascoltare sempre più italiano fatto apposta per te che sei uno studente. Ciao e un abbraccio. Ciao e un abbraccio. Ciao e un abbraccio. Grazie a tutti.